Ho cultura del vino e la cultura del vino in Italia vuol dire anche una città, una zona, un territorio come Montalcino. Perché è importante Montalcino per la cultura del vino in Italia? Buonasera a tutti, è molto importante perché è quello che dopo il Chianti ha dato la notorietà del territorio nel mondo. Montalcino è assurdo a terreno cru, a zona cru. Prima Montalcino, ora è arrivato anche Bolgheri, però Montalcino rappresenta il massimo di quello che si può esprimere come qualità nella visione della toscanità. Montalcino è 100% sangiovese e quindi è un prodotto che ci viene riconosciuto come gusto, che non è assolutamente un vitigno facile da verificare, però rappresenta non solo il carattere dei toscani, ma rappresenta il vino toscano nel mondo. Nella fattispecie noi siamo un'azienda che produciamo, siamo noti per il brunello e a differenza di tante altre aziende produciamo tre brunelli. Qui stasera in degustazione abbiamo il brunello di Poggio alle Mura, nata 2006, che è un brunello che un po' si stacca anche dalla filosofia stessa dei nostri brunelli. Dicevamo quindi un carattere un po' particolare che ogni anno è diverso, ma già questo il Poggio alle Mura ci dovevamo aspettare, come caratteristica del vino, più elegante, più fresco, più pieno rispetto a altri brunello? Esattamente, come diceva appunto l'amico Gori, il brunello Poggio alle Mura rispetto al brunello normale e anche rispetto alla riserva si dovrebbe, secondo noi, differenziare, oltre che per essere simile a se stesso di anno in anno, ma una freschezza, un'immediatezza, un frutto il più evidente possibile. Cioè un vino, diciamo, anche più facile, però con facile non si intende un vino che non sia brunello. È brunello in tutta la sua forza, solamente c'ha subito, da subito, questa eleganza. Noi tant'è che usciamo qualche mese dopo rispetto al brunello, diciamo, 2006, tant'è che il brunello 2006 è uscito a febbraio e questo è uscito praticamente verso maggio, a volte anche giugno. Perfetto, quindi noi, il brunello che accompagna non solo le occasioni importanti, ma va bevuto un pochino più spesso e appunto con una gamma più ampia si può anche scegliere il brunello giusto per le occasioni. Poggio alle Mura è sempre uno dei più storici e sempre da cercare, anche dimenticarselo in cantina, non è mai un peccato, anzi, è bello ritrovarselo dopo qualche anno. Bene, grazie.